Google Maps, sia ancora Google Maps, è il terzo video credo che faccio di questa serie e andiamo a vedere sette funzioni di appunto questa applicazione strausata da tantissimi sia chi utilizza Apple sia chi utilizza Android, anche perché le mappe di Apple fanno un po' schifo e ti faccio vedere sette funzioni di Google Maps che forse, e dico forse, ancora non conosci ma che sono davvero, davvero utili. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Viaggio Vero se non l'hai ancora fatto cliccando il pulsante iscriviti rosso qui sotto e anche cliccando sulla campanella lì a fianco perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. E ora la piccola sigla del canale, poi andiamo con la disamina di queste sette funzioni e io scommetto che tre o quattro almeno non le conosci, ma forse anche di più. Eccoci qui, te le farò vedere dal telefono, ti apparirà il telefono qui a lato, mentre io farò, mentre io parlerò vedrai quello che ti sto dicendo, ti dico anche che vedrai in inglese perché io ho il telefono in inglese ma non cambia nulla, tu settalo con la lingua italiana e non cambia assolutamente niente. Partiamo con la prima funzione che sono le impostazioni, sì perché non tutti le impostano, è strano ma non tutti entrano nelle impostazioni Google Maps, sì perché si scarica l'app, poi magari funziona, funziona bene, quindi non si va a vedere le impostazioni. Le impostazioni di default magari se hai messo lingua italiana e Italia sono i chilometri, quindi hai tutto giusto eccetera eccetera, la lingua italiana anche nel navigatore e non vai a settare nulla, ma in realtà puoi fare tante cose. Ad esempio puoi decidere, fra le tante, di andare a scegliere se vuoi pagare dei pedaggi, ovvero delle autostrade, se vuoi proprio eliminare le autostrade, se vuoi eliminare la possibilità che vengano inseriti dei ferries, ovvero dei traghetti pubblici, dei traghetti, dei trasporti marittimi, insomma puoi fare tante cose. Nelle impostazioni puoi veramente fare tante cose, i colori dello schermo, puoi cambiare la voce del navigatore, uomo, donna, in tantissime lingue, in tantissimi anche accenti e dialetti, in alcuni casi per l'inglese, insomma puoi fare tante tante cose. Funzione numero due, potete mettere in pausa la registrazione dei luoghi in cui andate, come sapete Google Maps di default registra i luoghi in cui andate, alla faccia della privacy, sì, ma le avete, accettate voi queste clausole, ovvero voi andate, camminate, andate a mangiare nel tal ristorante, oppure andate a comprare qualcosa nel tal supermercato, registra il vostro passaggio in quel luogo, ma anche luoghi culturali, storici, eccetera, perché poi vi chiede eventualmente di dare una recensione e di diventare local guides, guide locali, ok, a parte questo che è un altro discorso, però registra le posizioni, le registra bene, infatti se vi ricordate ogni tanto vi può arrivare l'alert, l'avviso, siete stati bene nel tal posto? Se sì, fate una recensione, benissimo, potete anche mettere in pausa questa registrazione di luoghi, andando, come vi sto facendo vedere, esiste proprio la possibilità di mettere in pausa e poi riattivare, eventualmente in un secondo tempo, la registrazione dei luoghi in cui andate, magari andate in un luogo che non volete sia registrato. Legato a questo, terza funzione, forse ne avevo già parlato, ma la ridico perché è importante, potete navigare anche in incognito. Non lo so, dovete andare dall'amante, non voglio incentivare i fedifraghi, ma se volete andare in un posto che non venga registrato, ma non venga neanche registrato il fatto che state muovendovi verso un luogo, una destinazione, potete navigare, fare la navigazione in incognito. In questo modo nella registrazione, nella navigazione verrà registrata, non verrà registrato nulla per quel momento in cui la navigazione in incognito. Come si fa a mettere? Come vi ho fatto vedere mentre parlavo qui a fianco. Molto, molto semplice, con il suo pulsantino. Quarta funzione. Lo sapete che potete settare un allarme, una notifica, che vi dice e vi impone, no, vi dice, in maniera molto simpatica, di partire quando dovete partire per arrivare in un luogo. Ad esempio, voi inserite una destinazione finale e una volta inserita la destinazione finale e mostrato, diciamo, le direzioni, si può andare a scegliere di settare un allarme per dire quando si vuole partire o quando si vuole arrivare. Le cose sono diverse perché noi possiamo settare un allarme. Io voglio andare da Castelnuovo, nel Monti, a Reggio Emilia, come vi sto facendo vedere, come vi ho fatto vedere qui a fianco, voglio partire alle 20, ok? Oppure posso dirgli io voglio arrivare a Reggio Emilia alle 20, quindi lui mi dirà, o alle 20 e 30, lui mi dirà se vuoi partire, lui setterà un allarme, preparerà un allarme che mi dica di partire da Castelnuovo a seconda del traffico che c'è alle ore tal dei tali. Molto, molto comodo. Ed è una funzione che non viene utilizzata quasi mai. Io l'ho scoperta un annetto e mezzo fa e mi piace, mi piace, la utilizzo molto. Quinta. Quinta funzione. Potete, questa è simpatica, non serve assolutamente a niente, ma è simpatica. Avete presente la, quando fate navigazione e avete la freccina blu che vi naviga, come vi sto facendo vedere, e potete cambiarla. Quella freccina blu lì può diventare anche una macchinina. Non ce ne sono tantissime, ce ne sono al momento tre. Potete scegliere fra queste tre che vi ho fatto vedere, una macchinina rossa, macchina gialla, un camioncino, credo, una cosa del genere. Voi scegliete quello che volete. E, vabbè, diciamo che state, è una cosa un po' simpatica sostanzialmente, non cambia assolutamente niente nella navigazione. Invece della freccina avete una macchinina. Però era una funzione che magari non tutti sapevano. E basta cliccare appunto sulla freccina durante la navigazione. Numero 6, funzione numero 6, potete personalizzare tutte le opzioni di trasporto pubblico e dei servizi. Quando voi andate a inserire il nome di una località, ad esempio io qua, nell'esempio vi faccio vedere Milano, se inserisco Milano, poi apro la scheda di Milano, nella parte in alto dove c'è quel trenino, posso andare anche a settare, come sto facendo vedere, le funzioni pubbliche. Cioè nel senso, posso scegliere diverse cose del trasporto pubblico. Innanzitutto posso anche dirgli che voglio camminare meno, posso dirgli che voglio dei percorsi che siano abilitati anche alle carrozzine, che siano semplici anche per le carrozzine. Insomma, è utile. È un funzionamento molto, molto utile. Si possono quindi personalizzare le opzioni. Anche qui, spesso e volentieri, non si sa, ma Google Maps ha nascosto una marea di piccole funzionalità anche per aiutare i disabili, anche per aiutare chi ha piccoli problemi nel movimento. Assolutamente. Può essere anche una persona che magari è appena stata operata a un ginocchio o altre cose così. 7, funzione nascosta. No, nascosta. Funzione 7, che magari non conoscete ancora, ma anzi questa la conoscerete sicuro, ma ve la ridico perché ve l'avevo già detta, ma anche qui non viene utilizzata così tanto come l'utilità ha, per l'utilità che ha, è la condivisione della vostra posizione. Sì, perché potete non solo condividere la posizione, ma potete condividere la posizione in live, ovvero se voi continuate a muovervi, perché dovete continuare a muovere, mentre non potete aspettare la persona con cui avete condiviso la posizione, la persona che vi deve trovare vedrà su Google Maps, quando condividete con lei la posizione la potete condividere via mail, via messenger, via whatsapp, via tutto, e vi vedrà muovervi su questa mappa, così vi raggiungerà anche se vi spostate. E non è così stupida la cosa, perché magari siete per negozi e non volete fermarvi, non volete fermare il vostro shopping perché sapete che comunque impiegherà la persona, il vostro amico, il vostro compagno, la vostra compagna ad arrivare, impiegherà una ventina di minuti, voi continuate pure a fare shopping, avete condiviso la posizione con lui o lei, continuate a fare shopping, se anche cambiate quattro negozi vi troverà, per il semplice fatto che vi muovete in live view per lui o per lei, molto molto utile. Video che non è stato molto molto lungo ma utile spero, questi video su Google Maps come sapete mi piacciono un sacco, è un'app che adoro alla follia, ti ricordo anche, ti metto qui in descrizione, ma ti ricordo anche, te li ho fatti passare in questo video, i due video precedenti di questa serie, in cui ti citavo altre funzioni e anche funzioni molto utili, nel video credo di marzo o di aprile, che ho registrato a marzo o aprile, insomma, del 2021, insomma ci sono altri due video, sono già tre i video di questa serie di Google Maps, per questa app fantastica. Ti ricordo che per interagire col sottoscritto e con la community di Viaggio Vero intera, c'è il gruppo chiuso Facebook, cerca Viaggio Vero su Facebook, richiedi l'ingresso, è un gruppo chiuso, ma ti faremo entrare, è un bell'ambiente, non c'è polemica, ci diamo una mano, svisceriamo i problemi, diamo consigli, insomma ci sono i reminder, c'è un po' tutto quello che creo, che rilancio, ci sono scontistiche, insomma c'è un po' tutto. Telegram, tutte le mattine, tra le 8 e le 9, 7-8 minuti, 9 minuti, 8 minuti, 6 minuti dipende dalla giornata, di audio su un argomento di viaggio, che magari non porto qui nemmeno sul canale. Quindi canale Telegram, chiocciola Viaggio Vero. Canale Telegram, chiocciola Livers, Leaverse, la costola di Viaggio Vero, nata da, ormai siamo uniti con Livers, viaggiare e crescita personale, insomma una community fighissima anche quella. Tutti lunedì sera, la community di Viaggio Vero, si sposta sul canale Telegram di Livers, chiocciola Livers per la chat vocale, argomento di viaggio, diamo la voce anche a voi, apriamo i vostri microfoni e chattiamo insieme, assolutamente come se fosse una chat di Whatsapp, assolutamente live, tutte le sere, tutte le lunedì sera, ore 21. Ora, se questo video ti è piaciuto, pollicioni verso l'alto, aiuta a crescere i canali, mi fai tanto tanto felice, se non sei ancora iscritto e iscritta, questa è l'ultima occasione per questo video, faccio una sorridente che vedi qui sotto, ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella Livers, a fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero e utilizza queste funzioni di Google Maps, mi raccomando.